A Cosenza il calvario delle 21 famiglie che abitano nelle 21 villette a schiere in via dell'accoglienza di fianco alla sede dell'ANAS di fronte allo svincolo autostradale di Cosenza Sud, che stanno vivendo da oltre 10 anni, almeno in parte potrebbe presto finire. Infatti la strada inizialmente di partinenza della società autostradale è divenuta comunale nel 2013 grazie alla sottoscrizione di una convenzione con l'amministrazione Abruzzi a titolo gratuito, un'operazione che aveva lasciato presa agire ad una definitiva soluzione del problema, che però purtroppo per gli abitanti ha subito un altro rallentamento a causa della solita e mancabile burocrazia, in questo caso degli uffici comunali che hanno sì predisposto il marciapiede e allargato la sede stradale, ma ancora la definitiva bitumazione tarda comunque ad essere realizzata. Ma quel che preoccupa in modo particolare le 21 famiglie di questo quartiere è la questione sicurezza, sia l'area parchegge, sia la traversa che porta al complesso residenziale che tra l'altro è senza illuminazione, la sera dopo un certo orario diventano luoghi di ritrovo per tossicodipendenti, per chi cerca qualche attimo di intimità, dei cosiddetti scambisti e di depravati sessuali. Insomma una vera e propria car parking sex famosa per tutto questo addirittura prima della costruzione di queste billette quando quest'area era un cantiere deposito dell'ANAS. Ed il sorgere di queste residenze non ha scoraggiato questi abituè dagli esternibizi, circostanza questa che impedisce il quieto vivere di chi vi abita. I residenti più di una volta si sono rivolti alle forze dell'ordine che purtroppo nulla o quasi possono fare perché viene difficile coglierli in flagranza di reato. Ma una serie di deterrenti potrebbero farli desistere come l'installazione di lampioni e un sistema di videosorveglianza. Soluzioni queste che potrebbero riportare un po' di sicurezza e serenità per le persone che ci abitano anche perché alcune di loro in più di una circostanza sono dovute intervenire in modo energico per allontanare questi frequentatori notturni che si appropriano dell'area anche con modi diciamo inadeguati.